Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio Lo sport in collaborazione con Dai più valore alla tua casa Scegli Pegaso I veri mobili artigianali veniti in legno massiccio Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati All'interno del punto vendita Pegaso Sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito PegasoMobili.it Partendo da un dato di fatto Come giustamente osservato La pubblicistica sul Toro è veramente smisurata enorme Sono uno studioso, un ricercatore Ma soprattutto un collezionista Quindi penso di aver acquistato tutto Tutto pubblicato sul Toro Bene, questo quanto ho letto Non mi ha mai soddisfatto del tutto Per cui ho deciso di cimentarmi In una pubblicazione del Toro Che come ci dice il titolo Ha cercato di inquadrare il sistema Toro Come fenomeno culturale E l'abbiamo cercato di vedere da un'angolazione totalmente diversa Quindi come fenomeno culturale Studiandolo con dei meccanismi Che non sono i soliti Cioè nel libro che ho curato Non si parla di dati Di date, di partite, di vittorie, di sconfitte Ma si parla di temi come la memoria La memoria del tifoso Granata E l'identità del tifoso Granata Ci tengo a precisare che ho coinvolto 14 persone diverse Che hanno scritto per me dei saggi Più io ho curato 3 saggi indipendenti Dal resto È emersa una cosa semplicissima Il tifoso del Toro è un tifoso diverso Per ovvi motivi Nel mio saggio, un saggio specifico Ho individuato due caratteristiche principali Innanzitutto la specificità di essere a Torino Essere a Torino vuol dire Confrontarsi, come sappiamo, con una realtà oppressiva E quindi il Toro è sempre stato Fin dall'inizio Fin dall'inizio Un gesto di ribellione nei confronti del potere E poi la seconda caratteristica importante È questa È il Granitorino La scomparsa del Granitorino Ha segnato in maniera indelebile L'identità del tifoso Granata Ancora oggi A 70 anni di distanza È un evento che ne caratterizza La propria identità Il meteo in collaborazione con Immaginate di essere al caldo nella vostra casa Immaginate un modo più intelligente per riscaldarla Immaginate un modo più economico per riscaldarla Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa I vantaggi che ti offriamo con la caldaia Pellet RTB sono La pulizia della cenere ogni 6 mesi Assistenza entro le 24 ore e garanzia per 10 anni Eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico Vuoi maggiori informazioni? Punto Fuoco A Tortona sulla circonvallazione Chi si reca al mercatino di Natale a Bressanone Si incanterà in un'atmosfera di grande fascino Il mercatino di Natale è allestito nella romantica piazza Duomo Nel cuore della città Una giostra conquista i più piccoli Le carrozze trainate dai cavalli girano per le viuzze E i cori intonano melodie natalizie accompagnati da strumenti a fiato Il mercatino di Natale di Bressanone vi aspetta Il mercatino di Natale